Strava le blaue Himmelle, Sonnenschein, hier in Valamprichshausen, in Salzburger Flachgau. Die Amadeus Junior Specials sind voll im Gange und die nächste Bildhübsche, charmante Siegerin aus Italien steht neben mir, Alega Iriaci. Alega, complimenti! Adesso tu vinto la gara di 1.40 con la tua Cavalla, la Cavalla belga. Isel, com'è stato oggi la Cavalla? Eh, direi che è andata molto bene, ce l'ho da poco tempo, da qualche mese e è la prima gara che facciamo importante all'estero, direi che sono veramente felice. Ma ogni anno tu vini all'Amprichshausen? Il terzo anno e che vengo qua, l'anno scorso la Juniores, quindi c'è un atto cavallo grigio con cui ora faccio la 35 dell'Under 25 e poi quest'anno la Yangrade con la Cavalla nuova. La Cavalla nuova. Cosa va i prossimi giorni con questa Cavalla? Vai Gran Premio o Coppa? Allora, no, non sono in squadra perché appunto è il mio primo anno, quindi iniziamo con calma, però faccio sia l'individuale della Coppa, poi sabato sta tranquilla e domenica fa il Gran Premio. E Gran Premio e domenica? Cosa pensi? È possibile fare il Netto? Sono molto fiduciosa, quello sì, si incrocia le dita. E come ti piace l'Amprichshausen ancora quest'anno? L'Amprichshausen? Eh, quest'anno fa caldo, però no, qua ci vengo sempre molto volentieri. Il campo è veramente bello, anche l'atmosfera, con gli alberi attorno, un posto che ritornerò spesso, volentieri, sì. E un po' calupa anche per i prossimi giorni. Grazie mille, buona giornata. Grazie mille, buona giornata. Grazie a tutti